eccoci qua buongiorno a tutti oggi abbiamo la fortuna di avere tre colorazioni con noi una delle quali veramente molto molto rara non farete fatica a distinguerla eccola qua questo bellissimo maschietto moschettato tasso quando vedete da cuccioli la testa che sembra grigia questo si chiama moschettato tasso perché dopo queste moschettature compariranno anche sul dorso una colorazione veramente molto rara molto difficile da da vedere insomma e qui invece abbiamo il classico tricolore sella nera ne abbiamo parlato tante volte sembra quasi completamente nero con delle focature fulve e poi dopo ricordiamoci che tutta la testa diventerà fulva come in questo caso e la schiena invece rimarrà completamente nera non avremo delle moschettature mentre le spalle e il posteriore diventeranno fulve qui abbiamo invece un altro moschettato lepe molto più comune lo ridistinguiamo perché da cucciolo presenta già la testa completamente fulva e quindi andrà schiarendosi anche su quello che è la colorazione del dorso che non sarà completamente nera lucido però saranno presenti delle moschettature delle moschettature appunto che vengono definite lepe però come vi dicevo il colore assolutamente più raro è il moschettato tasso e vedete si presenta con questa testa grigia schiena nera e poi dopo in brecce avremo delle moschettature anche sul dorso io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e vi auguro un po' di più